eccoci qua eccoci qua per la ventiduesima puntata del rompiballe show allora io vorrei dire una cosa per l'ennesima volta mi sono imbattuto in un ciclista che non usava la pista ciclabile dove c'è la pista ciclabile cioè ma io dico una cosa ma se ne hanno fatte a posto per voi maledetti utilizzatele utilizzatele perché ne va nella vostra sicurezza prima di tutto quella è la cosa fondamentale e la seconda cosa anche degli automobilisti perché comunque date fastidio in mezzo alla strada cari miei ciclisti quindi vedete di utilizzare le piste ciclabile hanno speso i soldi apposta per voi allora io a sto punto qua penso una cosa penso ma visto che non le utilizzano potremmo utilizzarle noi per un qualche qualche cosa di diverso allora adesso aspettate che mi concentro eccomi qua gli occhiali iper tecnologici sono qua in mezzo al campo e subito c'è campo ole 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 c'è campo ole ole c'è campo ole 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 c'è campo ole 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 mi è venuto in mente potremmo utilizzare la pista ciclabile come area relax ragazzi pensate l'automobilista si può fermare aprire il baule tira giù la sedia e si può tranquillamente fumare una sigaretta in barba ai ciclisti che passano sulla strada che ne pensate oppure pensate che bello se arrivano tre quattro persone col camper no si mettono lì con i loro bei tavoli e le loro belle sedie sulla pista ciclabile poi dopo arrivano anche un quattro cinque automobilisti un po' di motociclisti tutti quanti e tutti quanti lì sulla pista ciclabile sulla ciclabile a comandare oh 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 sulla ciclabile a comandare e cantiamo tutti asieme in barba ai ciclisti che non lo utilizzano mai questa pista ciclabile utilizzatela grabber rival utilizzatela to che Per fare questa innovazione qua, visto che non vi ho utilizzato una bella raccolta firme E tutti quanti sono acciclabili a come andare Tutti sono acciclabili a come andare Chissà cosa ne penserete voi di questa mia idea Secondo me sarete favorevoli A martedì prossimo Ciao a tutti Ciao ciao